Dal Vangelo secondo Giovanni, un po' modernizzato. Giù ti ha abbandonato. Giuda ha tradito Gesù e ha abbandonato i suoi discepoli. Nessuno dei suoi compagni sa il motivo di questo gesto e nessuno gli ha chiesto spiegazioni. Magari oggi impegnati a recuperare i rapporti con un amico che ha compiuto gesti inconsueti.